gabriel garco è stato il suo amante il famoso attore italiano ha avuto una relazione proprio con lui lo conosciamo benissimo è famoso in tutta italia e chi lo avrebbe mai il sexy simbolo italiano per eccellenza gabriel garco è stato l'amante di un famosissimo personaggio del mondo dello spettacolo si tratta di lui lo conoscete tutti gabriel garco rivelazione incredibile sul famoso attore gabriel garco si può considerare sicuramente uno tra gli attori più amati e talentuosi del panorama artistico italiano da tanti anni è il volto noto di fiction e serie televisive di grande successo diversi progetti professionali che lo hanno lanciato alla popolarità come dimenticarlo per esempio né il bello delle donne o né l'onore e il rispetto quest'ultima è stata poi la fiction che lo ha consacrato ancora di più al successo lui che ha fatto parlare di se non soltanto per la sua bravura e il suo carisma ma anche per il coming out inaspettato continua ancora oggi ad avere i riflettori puntati addosso spunta una indiscrezione che lascia tutti a bocca proprio lui l'ex fidanzato di manuela arcuri e di eva grimaldi è stato l'amante di un uomo un personaggio molto importante del mondo dello spettacolo che ha deciso di parlare e di raccontare tutta la verità arriva la confessione che nessuno si aspetta l'attore italiano è stato l'amante di lui arrivano indiscrezioni su gabriel garco che lasciano tutti senza parole il famoso attore italiano è stato l'amante di lui di un uomo molto importante della televisione stiamo parlando di gabriel ero attore ballerino di grande successo classe 1988 gabriele è un artista amatissimo e seguitissimo che ha preso parte a diverse fiction popolarissime come tutti pazzi per amore o che dio ci aiuti da qualche anno rossi sta sperimentando anche la strada della produzione ed è proprio lui il regista di briciole un cortometraggio che ha raccolto molti consensi positivi ebbene a fare una confessione che nessuno si aspettava è proprio gabriele che ha dichiarato che gabriel garco è stato il suo amante galeotto fu il set dell'onore e il rispetto dove scattò la scintilla con garco nascondere al tempo la propria sessualità non ha consentito ad entrambi di viversi a pieno i due si lasciarono per ritrovarsi poi dieci anni dopo con il cuore libero e le idee più chiare e cominciarono a viversi da fidanzati gabriele e gabriel sono stati insieme un bel po di anni prima di dirsi definitivamente addio purtroppo la loro relazione non è terminata come tutti si aspettavano ma i due sono rimasti ugualmente in buoni rapporti oggi gabriele rossi è fidanzato con lorenzo licitra con il quale è impegnato da tre anni e con il quale un giorno spera di poter concretizzare progetti più importanti come il matrimonio non rinnega però il suo passato l'attore italiano che di gabriel garco conserva un meraviglioso ricordo grazie a tutti grazie a tutti